Ciao ragazze, allora, questo è un video per il mio primo giveaway, dunque, vi spiego, vengo subito al dunque, ma, le regolette e i premi, dunque, questo è un giveaway di campioncini, ok, campioncini che ho avuto, insomma, quando ho fatto le varie coppere make a pose o di qualsiasi altra cosa, dunque, ci saranno tre vincitrici, bisogna, le regole sono, bisogna essere iscritti, c'è un massimo di due commenti a testa, e in questo commento mi dovete, l'ho scritto, quindi sto leggendo, mi dovete dire cosa ne pensate di come ho postato il giveaway, perché questa cosa, perché questo giveaway ci saranno tre vincitrici, quindi tre premi, e ogni vincitrice sceglierà il premio che vuole, quindi la prima avrà da scegliere tra tre premi, la seconda è tra due, e l'ultima si prende quello che resta. i premi li ho divisi in viso, corpo e diciamo cellulite, ok, quindi, dunque, passiamo subito i premi, ve li faccio vedere e via. Ci saranno, questo è presente in ogni premi, ci saranno cinque salviettine profumate a limone, imbustate singolarmente, io queste le prendo al lavoro, infatti sotto c'è il logo del lavoro, ma mi ci trovo benissimo, profumano tantissimo, smacchiano, e insomma, quindi ho detto, dato che io comunque ho il pacchettino a casa, che mi sono preso, ho detto, ah, io le voglio dare anche alle mie sculette, quindi sono cinque, in ogni premio ce ne sono cinque, quindi, poi per quanto riguarda, questo sarebbe diciamo il primo premio, no, non è il primo premio, questo è la, diciamo, la scelta a viso, ci sono le cinque salviettine, ci sono tre salviettine impacchettate singolarmente per pulire gli occhiali, molti campioncini, vedrete che magari sono spagnolo, perché io, insomma, io ho qui, quindi è, sono delle salviettine per pulire gli occhiali, da sole, da vista, qualsiasi tipo di occhiali, io le trovo molto utili, e comunque il viso, gli occhiali sono sul viso, e non tutte siamo senza occhiali da vista, anche io, anche io, comunque, poi ci sono tre basi, tre fondotinta, tre campioncini di fondotinta, uno è l'Avon, Lilial Shade, l'altro è della Galenic, e l'altro è della Kiko, ok? Ci saranno questi tre, poi ci sarà una maschera PILOF, il frutto della passione, del Bottega Verde, il Deep Control, scusate, della L'Oreal, Pure Zone, e il, io lo so, penso in italiano sia il codice gioventù, non lo so perché in spagnolo, codico joventud, che, ecco, ringiovanisce anti-rughe. Per quanto riguarda la scelta corpo, abbiamo le cinque salviettine, così, poi c'è una lozione Happy Tang della Nivea, che è uscita quest'estate, questa lozione, e pelle normale secca. Abbiamo dei campioncini di Bottega verde, che sono il latte corpo, latte corpo al tè nero, il detercente scrub per il corpo con polvere di cocco, e poi questo, che dove sono andata quest'estate nell'outlet, c'erano dei campioncini che si potevano comprare, che è al muschio, è al bagno doccia e il latte corpo, sono belle sostanziose, sono monodosi. In più c'è il lactacid intimo, le salviettine, questo è sempre utile portarle in borsa, io ho sempre un pacchettino, il mille usi della fria, una salviettina a mille usi della fria, e un bagno doccia rinfrescante dal dolcente dell'erbolario, l'odi. Poi, per quanto riguarda la scelta cellulite, abbiamo le 5 salviettine rate, questo è inglese, che dice che si raccomanda anche per le smagliature, poi di bottega verde abbiamo la termica gel, crema rassodante per cellulite, formula gel superattiva, e questo è il latte corpo tonificante emolliente del mar morto, queste due di bottega verde. Questa marca, i macchiaioli, via borghese, la crema coadivante anti cellulite, sempre due, poi abbiamo della vc, vc si dice qui in spagna, l'ipocure, l'ipocure, siero disinfiltrante anti cuscinetti, pella, buccia d'arancia, cuscinetti ostinati, l'acqua termale di vc, e infine della collistar crema intensiva anti smagliature, che una mia amica se la comprò, questa è già da un bel po' che c'è in giro, non so perchè ancora dà ai miei campioncini, e dice che funzionava, che andava bene, comunque questa, questi sono i premi, farò una foto così vi potete vedere bene, quindi sarà viso, corpo e diciamo cellulite, il giveaway dura, quanto lo facciamo dura? 10 giorni, e durerà da quando, insomma, sarà online questo video, metterò un fumettino che dirà il giorno, comunque nella descrizione lo dirò, ripeterò anche le regole, e niente, spero partecipiate, commentiate, in tante, e insomma, così, e vabbè, basta, chiudo, ma non so più che dire, va bene, ci vediamo al prossimo video, e vabbè, ciao, basta, ciao! 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 Ciao!